Parlavamo un attimo fa con la nostra ospite che saluto subito, Francesca Romana Poleggi, ben trovata. Buongiorno a tutti. In quel di Roma con la Bougainville dietro? Veramente vicino Roma, a Fregene. Ah allora, a proposito di luoghi di vacanza che prima citavo per i nostri telespettatori, ce ne sarà qualcuno che sicuramente magari è proprio lì a due passi. Ma noi adesso non parliamo certo di vacanze, perché la battaglia per la vita appunto non va in vacanza, non è retorica questa. Un evento di Provite Famiglia, ieri la presentazione di un video che girerà penso sempre di più, così come in altri paesi, Baby Olivia. Perché questa Baby Olivia difende la vita nelle piazze italiane? Ce lo spieghi? Allora guardi, io direi che prima che difendere la vita, Baby Olivia deve difendere la realtà, la semplice verità. Perché io mi trovo a fare dei dibattiti, a parlare con persone adulte, ragionevoli e di cultura, che dicono che non si può dire che nella pancia della mamma c'è un bambino. Perché non si può dire mamma, non si può dire bambino, perché è un linguaggio discriminatorio, esclusivo e giudicante. E invece, cari amici, noi dobbiamo riportare i piedi per terra. Siamo arrivati al punto, che diceva Chesterton, bisogna dimostrare, sguenare con le spade per dimostrare che le spade, che le foglie in estate sono verdi. Cioè, che nella pancia della mamma c'è un bambino. E però se lo diceva Chesterton tanti anni fa, svariati ormai secoli fa, vuol dire che evidentemente è un vizio non solo del nostro tempo, quello di negare la verità quando fa comodo. Ma adesso abbiamo completamente, ci siamo scollati dalla realtà. Lei capisce che non si può dire madre, non si può dire figlio. E che c'è nella pancia della mamma? Un carciofo? Cosa c'è? Un cavallo? Allora, Bebbi Olivia ci fa vedere il miracoloso, meraviglioso, stupendo viaggio che ognuno di noi ha fatto prima di nascere. Dalla fecondazione, Bebbi Olivia lo spiega, comincia un dialogo intenso fra la mamma e il figlio. E la mamma neanche sa di essere incinta ancora. Eppure si scambiano in continuazione messaggi ormonali, chimici, eccetera. Per cui già c'è un rapporto. Il Journal of Medical Ethics, che non è certamente un giornale cattolico, una grande rivista scientifica, laicissima, nel novembre del 2000 già faceva un editoriale in cui spiegava che quel piccolissimo embrione, quel grumo di cellule, quello zigote, in quei primi otto giorni, cioè capisce dal momento del concepimento, è già un attivo direttore d'orchestra artefice del suo destino futuro. Cioè è un soggetto autonomo. È chiaro che non è indipendente dalla madre, ma quanti uomini anche di 50 anni ancora non sono indipendenti dalla madre. Ma quel bambino, io lo chiamo bambino, quel grumetto di cellule, già ha una sua identità biologica, è un essere umano con il DNA unico e ripetibile di ogni essere umano. E comincia uno sviluppo che già in nuce è tutto lì, che non si può arrestare. Non esiste un punto in cui possiamo dire prima è una cosa, poi è un'altra. Quello è sempre stato Francesca, è sempre stato Giovanni, è sempre stato Maurizio, è sempre stato uno di noi. Semplicemente umano. Provide Famiglia ha iniziato da tempo questa campagna intitolata Semplicemente umano per il riconoscimento della umanità dell'embrione e adesso abbiamo lanciato anche una petizione per chiedere al ministro dell'istruzione che nelle ore di scienze in tutte le scuole si spieghi come nascono i bambini. Si spieghi che nelle pance delle mamme ci sono i bambini, perché se questa ignoranza grave c'è tra le persone adulte di cui parlavo prima, figuriamoci fra i ragazzi. Io insegno da quasi 40 anni e ne so qualcosa. Dicono ragazzi di 16, 17 anni che non c'è vita prima della nascita. La questione naturalmente culturale in Italia significa anche, noi lo abbiamo tutti sperimentato, penso dalla mia generazione indietro, sul pudore. La questione del pudore è stata molto importante, per cui tutto quello che era anche voglia di saperne di più dal punto di vista scientifico non è che fosse tanto valorizzato, per non parlare appunto della storia della Chiesa su questo, ma andremo molto lontano. In ogni caso è giusto quello che lei dice, naturalmente, e spero che vada a buon fine anche questa vostra petizione, ma c'è comunque già una buona notizia che in queste ore non avevo fatto in tempo a comunicare ai nostri telespettatori. Il rifiuto del presidente della Polonia, Andrei Duda, a firmare una legge annunciata appunto dal governo di Donald Tusk per legalizzare l'aborto fino alla dodicesima settimana. Questo significa legalizzare la soppressione di un innocente. Il presidente ha rifiutato quella firma. È stato commentato da voi, in particolare dal presidente di Provite Famiglia Antonio Brandi, come segnale di ragionevolezza e speranza per un'Europa dominata da autodistruttive ideologie di morte. Trovate tutto naturalmente, tutto il comunicato, anche con i suoi ampi riferimenti alla scienza, su questo sito che a sua volta abbiamo già citato e da cui abbiamo preso quelle immagini. Una curiosità. Stiamo tranquilli, non ci sono stati problemi per realizzare quelle immagini straordinarie. Nessun pericolo per il feto. No, sono immagini computerizzate, realizzate dall'associazione Pro-Life americana Live Action, con tutti i grismi e con tutte le regole scientifiche necessarie. Sono immagini computerizzate queste. Quindi il bambino, la piccola Olivia, non ha avuto assolutamente nessun problema, non è stata una cosa invasiva. Si basano sulle grafie. Perché è sempre meglio fare chiarezza. Diamo tutto un po' troppo per scontato, anche noi comunicatori. 30 secondi per la conclusione, Francesca. Voglio concludere parlando di Duda, che il presidente polacco ha fatto una cosa profondamente femminista, perché nessuno dice, nessuno informa le donne sui pericoli che ci sono dopo l'aborto e nessuno sa che se guardiamo i dati dell'OMS, i paesi dove c'è l'aborto più libero c'è anche più mortalità materna. La Polonia, che ha, anzi grazie a Duda, ancora una legge molto restrittiva sull'aborto, ha un indice di mortalità materna che è il più basso del mondo. Più degli Stati Uniti, del Canada, di tutti questi bei paesi che hanno l'aborto libero quasi fino alla nascita e oltre. Quindi essere contro l'aborto vuol dire essere per le donne. Io di questo sono straordinariamente, fondamentalmente e totalmente convinta. E grazie a Dio non è una convinzione così, è una petizione di principio, ma i fatti appunto che ci interessano molto lo dimostrano. E grazie alla nostra ospite per aver citato anche questo dato che onestamente colpisce davvero. Grazie a tutti voi e naturalmente buon lavoro anche da zone di vacanza. Speriamo di poterci tenere sempre in contatto con voi perché sono tante le iniziative che continuerete a fare. Chiudiamo dunque con un arrivederci il collegamento con Francesca Romana Poleggi da Fregene. E grazie anche per aver sopportato comunque chissà quanto caldo per stare con noi. Adesso perché, come vi dicevo, parliamo comunque di vita anche quando si parla di Terra Santa. Certo, la situazione è veramente di quelle in salita. Però abbiamo avuto anche il privilegio, grazie al nostro direttore che ringrazio, di avere fresco fresco un riferimento video al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pier Battista Pizzaballa, ieri sera a Castellana Grotte. Iniziamo con l'ascoltare qualche parola. L'audio non è semplicissimo, non è professionale, però sforziamoci perché dice cose veramente importanti. Chi stiamo ascoltando dalla Santa si vede molto bene, è bene. Ecco, e uno non si chiede perché, ecco, perché succede tutto questo. E dove sono gli operatori in pace? E dunque abbiamo sentito, con la sua grande semplicità, oltre che autorevolezza, la Pizzaballa continua a sensibilizzare tutti, perché non ci rigidiamo, perché cerchiamo anche noi di costruire dei ponti in fondo anche dentro le nostre convinzioni che a volte polarizzano i nostri atteggiamenti quando si parla di Israele e di palestinesi. Ci sono spiragli di tregua tra Israele e Hamas, erano le notizie rilanciate anche dalle fonti vaticane in questa settimana, cauto ottimismo dagli States, e noi non possiamo che evitare l'atteggiamento di chi ormai non spera più. Non è corretto, non possiamo farlo, lo abbiamo sentito. Ma vi dovevo il perché di questa immagine, di questo intervento così bello a Castellana Grotta, in provincia di Bari, del Cardinale. Perché oggi presiderà la messa per il settantesimo anniversario di sacerdozio di Padre Pio Dandola, commissario di Terra Santa per la Puglia. E a questo proposito forse ricorderete, tempo addietro, proprio dei contributi preparati e realizzati dal nostro Nicola Morcavallo con il commissario per conoscere meglio quei luoghi. Certo, eravamo lontani dall'immaginare che la situazione sarebbe precipitata in maniera così tragica come è avvenuto dal 7 ottobre scorso. Adesso siamo in procinto, sì, vedo che i tempi sono quelli di fare un'altra sosta, ma poi di ritornare in particolare a Gerusalemme.